Good morning! Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti! Come state? 7.09 in questo istante di oggi, martedì, 5 novembre. Benvenuti in un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, benvenuti come sempre qui su Crystal Radio. Inizia la mattinata di Crystal Radio, inizia la giornata radiofonica di Crystal Radio, ma soprattutto inizia la vostra giornata. Giornata che potete condividere insieme a noi con il nostro numero di Whatsapp al 331-78-535-555. E qui, pronto davanti a me, aperto per ricevere i vostri consigli, magari sulla giornata, le vostre storie su quello che è stato la giornata di ieri, questo lunedì dopo il weekend lungo, che magari è stato un po' più difficile rispetto agli altri, chissà, no? Potete raccontarcelo appunto qui in diretta, 331-78-535-555. Sì, ho questo vizio di ripetere i numeri sempre due volte, un po' come fa quello. Allora, le do il numero, è 331-78, così, no? Sì, questo vizio, insomma. È un po' come bussare tre volte la porta per Sheldon Cooper, un po' così, no? Quello di Big Ben Teori, per intenderci. Insomma, ognuno ha le sue, chi siamo noi per giudicare, no? Come disse qualcuno molto più in alto di me. Oggi è martedì, come vi dicevo, appunto, quindi una settimana pronta davanti a noi, ancora bella lunga, che però, secondo me, riusciamo ad affrontare meglio di altri, nonostante la Shigera, oppure grazie alla Shigera, no? Non abbiamo visto che ormai praticamente chiunque ci sta mandando foto di nebbia e foto di nebbe malpadana, come... Ovunque, no? Cioè, ovunque c'è nebbia e ovunque troviamo foto di gente che dice e io la Milano l'amo, io amo... C'è un Biamè, Milano mi piace perché è grande, è la Shigera, Milano, tutto così, ma è sempre così. Insomma, questa cosa strana è perché noi amiamo la città quando tutti gli altri la odiano, non c'è poco da fare, non c'è poco da fare, ma che brutta città grigia. Invece noi, no, Shigera è bella, a me ricorda quando eri giù, no? Così. E insomma, voi l'avete fatta la foto alla Shigera, l'avete fatta la foto alla nebbia? Se volete mandateci, anzi, ci ha mandato già una foto a Alberto, molto bella, Corso Vercelli, nebbia in fondo e sembrerebbe non ci siano auto in doppia fila, non so, ma è all'alba secondo me, eh? E questo era Michael Jackson con Billie Jean, come sempre ve lo dico, più Michael per tutti, è così, c'è poco da fare, bisogna ascoltarlo sempre di più e cercheremo sempre di darvi più Michael Jackson, perché so che la mattina, insomma, vi fa molto, molto bene. Shigera a parte, nebbia a parte, grazie per i vostri whatsapp, come quello di Alberto che è arrivato poco fa, che dice un saluto e un buongiorno a Fabio, Beatrice e Ginevra e a tutti gli amici di Crystal Radio, perché è sempre più difficile svolgere i propri impegni e obblighi. Oggi sciopero dei treni in attesa dello sciopero di venerdì, appunto di venerdì 8, dopo ne parliamo meglio perché ci sono anche le fasce dove raccontarvi tutto, eh? Sui navigli questa mattina nebbia d'altri tempi e infatti la nebbia ci porta sempre a pensare appunto a quello che fu, no? Ma è normale perché erano anni in realtà che non si vedeva tanta nebbia e poi ti dico la verità, anche quest'anno, adesso abbiamo questi 3-4 giorni in cui ci saranno nebbium, poi però non la vediamo più, cioè è sempre così, è sempre più rara, da una parte meno male mi viene da dire, dall'altra fa pensare su come ormai si è evoluta la nostra città e anche la nebbia fa fatica a trovare spazio, tant'è che appunto quando poi dopo arriva alle porte della circonvaluazione insomma ci stupiamo, diciamo, oddio signor, se l'è che una roba chi, no? E' la nebbia, è la nebbia che ha invaso la nostra città, insomma, viviamoci un po' queste mattinate ovattate che poi in realtà non vatta niente se non la nostra vista, ma ci sembra che anche i rumori siano più vattati, ci sembra quasi che poi quell'effetto neve, no? Per cui quando c'è la neve i rumori si sentono più bassi, si sentono di meno, in realtà non è vero, con la nebbia si sente tutto uguale, ma sembra così, no? Cioè la 90-91 fa sempre lo stesso rumore, il tram sferraglia nella stessa maniera, la macchina di quello che la lascia accesa per far scaldare e sbrinare i vetri fa sempre lo stesso rumore, ma a noi sembra di meno, forse è anche complice il fatto che ormai sono tante auto elettriche, io l'ho visto l'altra mattina, ho visto questa cosa particolare, esco appunto qua davanti allo studio, passa un'auto, sono una Peugeot degli anni 90, scarburata, una roba da rally, sembrava, no? Che mi sono chiesto anche cosa ci facesse in Bionovara un'auto del genere, quindi fa parte, fa la manovra, parte lentamente ma fa un rebelote, un rumore che tremano quasi i vetri, due secondi dopo, in senso contrario passa un'auto, un SUV immenso, una roba che non finiva più, con questo suono. Così, era un'auto elettrica, non si è neanche sentito passare, ed era surreale come una macchinetta piccola, in realtà faceva tutto quel rumore, e una macchinetta così immensa, così grossa, sicuro ci stavamo su tutti quelli della radio, se vogliamo fare una gita, prendiamo quel SUV lì, andiamo tutti quelli della radio, tutti gli speaker di tutta la radio, ci stibiamo dentro, secondo me stiamo anche comodi e possiamo anche andare in diretta, vi dico questo, comunque era surreale, no, appunto quell'altro che era una scatoletta di un metro per un metro quasi, e poi passa questo transatlantico che occupava tutta la via e ha il suono di... così e basta, vabbè. Comunque, oggi è importante come giornata perché a Milano ci sono due giorni, oggi e il 21, in cui saranno organizzate due giornate di immunizzazione davanti alla sede del Consiglio regionale, quindi Open Day al Pirellone contro l'influenza e il Covid, quindi Open Day per i vaccini, e da oggi appunto la campagna vaccinale è aperta a tutti i cittadini, quindi non solo le fasce deboli, ma chiunque da oggi si può incominciare a vaccinare appunto. E oggi, 5 novembre, appunto davanti al Consiglio regionale, scusate, c'è un Open Day per i vaccini. E questo è l'Azza, male da vendere, come il male che sentiamo ogni volta che leggiamo la parola sciopero, anzi, se oggi vi ricordo appunto c'è l'Open Day per i vaccini sotto alla regione Lombardia, c'è anche l'Open Day degli shopping, l'Open Week, perché oggi, appunto martedì 5 novembre, treni a rischio dalle 9 alle 17, i sindacati dicono vogliamo più sicurezza. Dopo l'aggressione di un capotreno a Genova, tutte le sigle sindacali hanno indetto un'agitazione per chiedere più tutele, insomma sono anche abbastanza comprensibili. Poi qui bisognerebbe capire, nel senso che cosa centriamo però noi poveri tapini che andiamo da Gallarate a Stazione Garibaldi, oppure che dobbiamo prendere il Treviglio, queste parole non, il Treviglio, il Varese, dobbiamo andare a Voghera, o meglio che da Voghera dobbiamo venire a Milano, anzi siamo anche solidali con la categoria, però insomma è veramente complicato, come sempre, quando si parla di scioperi e trasporto pubblico. Comunque appunto dalle, mi piace sempre perché essendo treni e hanno gli orari precisi sulla carta, lo sciopero è dalle 9.01 alle 16.59, perché serve questo distacco di un minuto, perché ci sono i treni che partono alle 9.00 o alle 17.00. Mi piacerebbe vedere che treno partirà alle 9.00. Quindi comunque vabbè, sciopero dalle 9.00 alle 17.00, ci saranno comunque delle fasce di garanzie rispettate, che sono quelle dalle 6.00, in questo momento siamo in fascia garantita in questo momento, perché è dalle 6.00 alle 9.00 del mattino, e tra le 18.00 e le 21.00 per i convogli regionali, compreso il Malpensa Express. Sono in servizio i treni che partono prima delle 9.00 e arrivano a destinazione entro le 10.00. Ecco, c'è anche questo discrimine, nel senso che se un treno è in viaggio e sono le 9.30, quel treno viaggia solo, esclusivamente però, se arriva prima delle 10.00, cioè se l'orario previsto d'arrivo è prima delle 10.00. Così potete avere un po' di aggiornamento in tempo reale. Altro sciopero invece è quello di venerdì, venerdì, sciopero nazionale dei trasporti a Milano, rispettate le fasce garantite per metropolitane, neanche tutte, e per alcune linee di superficie, perché il servizio della M4 sulla tratta San Babila-Linate sarà garantito tutto il giorno, sull'altra tratta no, quindi attenzione anche a questo, invece poi M1, M2, M3 ed M5 saranno garantite nelle fasce di garanzia, cioè dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18, scusate, in mezzo alle fasce, scusate, ho invertito le fasce, cioè dopo le 8.45, prima le 8.45 e dopo le 15, ok, scusate, perché lo sciopero comunque, anche per quelle linee, sarà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Per tutte le altre linee di superficie, escluse veramente una manciata di linee, tra cui la 90-91, il 2, il 10, il 12, il 24 e altre, la 56, la 74, l'81, cioè comunque la 95-98 queste qua, escluse veramente una decina di 15 forse neanche linee, se no le altre linee non hanno la fasce di garanzia, quindi attenzione venerdì a come bisogna muoversi. Quindi fasce di garanzia appunto che fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 il servizio sarà assicurato solo per alcune linee in superficie e per invece solo le linee M1, M2, M3 ed M5 per quanto riguarda la metropolitana. Sulla tratta San Cristoforo-San Babila della M4 anche, invece servizio della M4 sulla tratta San Babila allinate per tutto il giorno. Se non avete ripeto niente e molto probabilmente è così, c'è l'applicazione ATM che può spiegarvi tutto quanto per lo sciopero appunto di venerdì. E chi siamo noi per giudicare appunto, no? Caterina Caselli alle 7.35 qui su Cristiano Radio. Good morning Milano, grazie a tutti voi che ci state scrivendo dei grandi Whatsapp e anche e soprattutto le famose foto della nebbia, l'ho detto. È bellissimo, in Milano io l'adoro per questo perché c'è il tramonto, tutti a fare le foto al tramonto. C'è la nebbia, sono tre giorni che facciamo foto alla nebbia, è bellissimo. Ma soprattutto è bello il messaggio che ci arriva da Adriana che dice col cellulare sembra si veda, in realtà è molto peggio, soprattutto non si vede nulla! Buongiorno, ecco questo al grido di non si vede nulla. Molti di voi stanno affrontando la giungla cittadina e quindi mi raccomando state attenti. Ascoltateci ma date un occhio in più alla strada questa mattina. Anche perché tanto so che non andrete chissà quanto, visto che insomma con la nebbia... In realtà però ho notato che è più la pioggia che si può dire che incoglionisce, che è meglio detto, che incoglionisce un po' gli automobilisti. La nebbia, ma forse siamo abituati, non lo so, forse perché siamo affascinati. Però no, vedo che l'automobilista medio con la nebbia non fa le stesse stupidaggini che fa quando c'è la pioggia, che ha paura di affogare, ha paura di finire chissà dove. Basta due gocce di pioggia, come si dice, eh signora mia, basta due gocce di pioggia, la città si paralizza, sì appunto è così. Comunque, state attenti, ok? Nel senso, fate le foto alla nebbia, fermatevi con la macchina, usate i filtri giusti anche se volete, però mi raccomando, occhi sulla strada. D'acqua della Sera Milano leggo una notizia che lascio interpretare a voi, nel senso che, vabbè, io ho la mia idea, ma la lascio interpretare a voi. I supermercati S. Lunga, dal 4 novembre, cioè da ieri, chiudono alle 21. I dipendenti dicono turni meno pesanti e più sicurezza. A Milano sono 10 i punti venitati interessati, quindi noi non tutti quanti, eh. Via Adriano, via Losanna, via Novara, via Le Piave, via Rubattino, via Lorienteggio, via Ripamonti, via Solari, via Pellechino Rossi e via Cena. Oltre poi anche all'Esse Lunga di San Donato. I supermercati S. Lunga, quindi, chiudono un'ora prima, appunto, da ieri sera, alle 21 e non più alle 22. Tutti i punti venitati di Milano e delle altre regioni in cui è presente la cattina di Caprotti, con l'unica eccezione del market aperto nel centro commerciale Merlata Bloom, che invece continuerà a mantenere l'orario solito alle 7.30 alle 21. Quindi in realtà tutti quanti di S. Lunga chiudono un'ora prima. mi fa specie leggere 10 punti vendita. Sono solo 10 di S. Lunga Milano. Pensavo molto di più. Ecco, questa è un'altra cosa. Vedete la percezione, no? Questa percezione. Ha parlato di S. Lunga, molto probabilmente, la S fa già degli orari diversi, se avete quelli piccolini, quindi... Comunque, una scelta organizzativa è per andare incontro alle esigenze di dipendenti. Così spiega l'azienda. Che carini, che gentili, ben un'ora e meno di lavoro. Resta invariata invece l'apertura domenicale, dalle 8 alle 20. Come organizzazione sindacale, invece, dice Alessio Di Labio, della Segreteria Nazionale della Filcams, avevamo chiesto l'anticipo della chiusura su diversi punti vendita, 16 in totale, sia per una questione di sicurezza legata a episodi furti di alcuni di questi punti, di punti vendita, sia per dare un beneficio dei lavoratori in termini di durata dei turni. Va bene, alla fine si è trovata, no? Si è trovata un modo per fare qualcosa per i dipendenti. Sono contento. Ah, ho detto la mia. Ecco, va bene. Chiedi alle 21. Chiude alle 21. Allora, io mi sono conto di questa cosa qui. Il supermercato, qualsiasi ora chiuda, c'è sempre quello che arriva all'ultimo secondo, ok? C'è sempre. Se voi lo chiudete alle 23, ci sarà sempre quello che arriva alle 22.59 a dire, no, devo prendere solo il latte, no, devo prendere solo, e poi esce con un carrello da 220 euro. È sempre così. Quindi, se lo chiudete, e poi posso dire, cioè, alle 20 va più che bene, ma anche prima. Guardate che in tutta Europa la domenica sono chiusi, chiudono molto prima, anche i centri commerciali sono chiusi la domenica. Vi dico anche questa cosa. Pensate voi un centro commerciale chiuso la domenica in Italia. Sarebbe impensabile oramai. E invece succede nelle altre parti del mondo. Quindi, magari si può anche diventare migliore ogni tanto. Lickly, I follow rivers. E voi, mi raccomando, occhio ai rivers, occhio soprattutto ai navigli, perché ci arrivano foto dal naviglio, grazie anche ad Adriana, ci arrivano foto dal naviglio, dove non si vede il naviglio dalla strada. Quindi, mi raccomando, state attenti. Oggi veramente nebbia molto, molto forte, soprattutto se dovete uscire dalla città, quindi andare magari nella zona più, verso, che ne so, Bucinasco, oppure magari verso San Donato, San Giuliano, così, attenzione, perché davvero, appena si incrociano due campi e magari anche un corso d'acqua, quindi un naviglio, e a Milano, insomma, ce ne sono tanti, occhio, perché davvero la nebbia si sta alzando tanto. Occhio anche perché le strade non aiutano. Leggo dal Corriere della Sera a Milano un articolo di Matteo Castagnoli. Quel Matteo Castagnoli che è stato qui con noi, ospite qualche settimana fa, però magari lo sentiremo meglio, anzi, dopo lo chiamo per fargli qualche domanda su questo articolo, perché è molto interessante. Strade pericolose a Milano, allarme per i masselli sollevati, danni alle auto e rischi per bici, moto e monopattini. Invia un viaggio tra le strade della città, dove al posto dell'asfalto c'è il tipico pavé. I lastroni in porfido, che già dall'Ottocento definiscono l'estetica milanese, ma la mobilità cambia e quei masselli si alzano. L'ultimo caso, non leggo appunto dall'articolo di Matteo, risale a martedì 22 ottobre. Andrea Bestetti, un nolleggiatore con conducente, rompe il fondo della sua BMW in Via Meravigli. Pieno centro città, sente un rumore forte, mentre guida, si ferma, scende e capisce che ha urtato un massello del pavé, che si era staccato dalla pavimentazione. Nulla da fare, si chiama i vigili urbani e va pure anche peggio, perché è multa beffa, 42 euro per non aver arrestato tempestivamente la marcia, evitando l'ostacolo. Poi questo capiremo come andrà, sarebbe interessante sentire poi come andrà a finire la lunga storia intorno a questa multa. Ma se si va ancora più indietro, il 12 dello stesso mese, un tassista con a bordo un cliente, sempre la stessa via, si ribalta un lastrone sollevato, gli fa fare capolino, sdraiando l'auto bianca su un fianco. Per fortuna, entrambi nescono fortunatamente appunto illesi. Ecco, questa è la mappa che viene fuori dalla città, e il comune, dice Matteo Castagnoli, è consapevole delle difficili convivenza tra antico e moderno, tra ciò che è considerato quasi un monumento storico della città, ma al tempo stesso la rende pericolosa. Gli interventi si dividono in manutenzione ordinaria, affidata ad MM, che prevede, per intenderci, il riposizionamento del massello che esce di posto, e quella straordinaria poi. Uno degli ultimi casi, in questo senso, è il cantiere avviato in estate, in via degli orefici, per il ripristino della pavimentazione e il rifacimento dei binari. Un nuovo armamento per riqualificare il fondo stradale. I lavori di routine sul pavè tra il 2020 e il 2022, che sono quegli gli ultimi dati disponibili dal comune, sono stati 5.549, per oltre il 70% solo nel municipio 1. I numeri appunto non sorprendono, in città e lastre in porfido resistono soprattutto in zone centrali, le ragioni in teoria sarebbero quelle del meno passaggi di mezzi pesanti. Dico in teoria perché, attenzione, bisogna capire qual è il mezzo pesante. Ovviamente l'auto non lo è, il camion lo è, nel senso, facciamo un attimino, ma i furgoni dei vari BRT, GLS, Amazon, tutti i corrieri, eh, so che non sono definiti mezzi pesanti dal codice della strada, perfetto, va bene, ma per il codice del pavè invece, cioè per il povero porfido che c'è lì sotto, che cosa sono? In più, i tram, è vero che passano, c'è solo tutta una sistemazione di armature intorno ai binari, ma fanno e creano vibrazioni. In più, ci sono comunque i camion che entrano in centro per i lavori, e sono tanti i lavori in questo momento, di ristrutturazione di varie zone della città in centro, di vari palazzi che vengono costruiti, quindi, attenzione, anche lì, forse non è più la mobilità, come dice appunto Matteo Castagnolo all'inizio, ma la mobilità cambia e quei masselli si alzano. Questa è la verità. Sono belli? Bellissimi? Stupendi. Sono ancora validi per la nostra città? Su questo ho seri e seri dubbi. Iggy Pop, Last for Life, 8 e 11 minuti, ben ritrovati qui a Good Morning Milano su Cristal Radio 96.2 FM, Dub Plus e poi tutte le altre modalità che conoscete benissimo, come l'app e il sito. Continuo con qualche notizia che leggo qua e là, tra cui, ad esempio, notizia importante per noi maschietti, perché Lombardia al via lo screening per il tumore alla prostata, primo appello per i nati a novembre 74, cioè chi ha fatto 50 anni. Palazzo Marino, scusate, Palazzo Lombardia, scusate, quando leggo Palazzo vado lì a direttore a Marino, invece in questo caso è Palazzo Lombardia, ha cercato testimonial pronti a metterci la faccia gratuitamente, ma non è riuscita a trovarli. Ecco, questa è la notizia nella notizia. La prima notizia è che ci sarà un questionario, poi il test per monitorare il PSA e sono i passaggi iniziali dello screening avviato dalla regione per individuare precocemente il tumore alla prostata, un'iniziativa unica per cui Palazzo Lombardia aveva cercato anche testimonial disposti a metterci la faccia gratuitamente, senza però riuscire a trovarli. Abbiamo anche lanciato un appello, dice l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ma molti di coloro che si sono resi disponibili o abbiamo contattato, volevano un gettone di presenza. Altri, però vi ricorda, si sono fatti avanti, ma per questione poi di tempi non si è trovato un accordo. VIP o no, dice appunto il Corriere della Sera, lo screening parte, si inizia con gli uomini che a novembre combiono 50 anni. Potranno compilare il questionario dal fascicolo sanitario elettronico o farsi aiutare dagli sportelli negli ospedali e nelle case di comunità. Poi saranno invitati a sottoporsi gratuitamente alle analisi del sangue per misurare il PSA senza bisogno della ricetta. In base ai risultati e alle risposte, si valuterà poi la necessità di ulteriori esami. Dal mese prossimo toccherà poi ai nati a dicembre 74 e poi così via. A regime il programma sarà rivolto a tutti i 50 settantenni. È interessante e importante dare queste notizie, anche perché noi maschietti siamo così, a fare gli imbecilli perché è quello che siamo a volte, a ridere, noi siamo la prostata, così. Poi dopo quando scopriamo di stare male, poi voglio vedere chi ride. E quindi è davvero importante, è una bella iniziativa appunto di Regione Lombardia. Peccato per questa cosa appunto che non si sono trovati i testimonial, ma come tutti gli influencer che ci sono, non è possibile che non c'è un influencer che ha più di 50 anni e che voglia fare qualcosa. No, mi viene a pensare però perché invece i testimonial, gli influencer, i testimonial soprattutto li troviamo quando si parla di tumore al seno ad esempio. Lì troviamo tutti. Oppure anche lì in realtà scopriamo che sono tutti i testimonial pagati, con il getto di presenza, perché nessuno vuole mettere la faccia per qualcosa davvero di sociale. Cioè adesso va bene tutto. Tu puoi essere d'accordo o non d'accordo con il governo della Regione, puoi essere d'accordo o non d'accordo con il governo del Comune o nazionale, ma quando parliamo di situazioni del genere insomma direi che non si sta lì a guardare il colore di chi fa partire una campagna di screening molto importante, interessante, che andrà a toccare davvero a regime, dicevamo appunto, tutti i 50-70 anni lombardi. Comunque, se siete nati nel novembre del 74, quindi auguri perché fate 50 anni in questo mese, potete già iniziare a mettervi in coda per lo screening gratuito per il tumore all'apostata. Così, è una realtà scomoda per molti di noi, ma con cui bisogna fare i conti. Insomma, se una volta si diceva che prevenire è meglio di curare, in questo caso lo è sicuramente, e soprattutto con i mezzi, con i metodi che ci sono oggi, si può davvero prevenire anche tanto, tanto prima, di evitare completamente poi di dover curare, ok? Fate un giro appunto sul vostro fascicolo del sanitario della regione o sul sito della regione trovate tutte le informazioni. Ripeto, se siete nati nel novembre del 74 e fate 50 anni, appunto, potete iniziare. Niente testimonial, vabbè, ma troveremo comunque il modo di fare lo stesso tutto questo anche senza testimonial. Zucchero, per colpa di chi? Eh, non si sa per colpa di chi, ma si sa chi l'ha detto, che la Torre Velasca è brutta. Sto parlando di Natasha Gupta, specializzata in tour virtuali con Google Heart, boccia la Torre Velasca e accende il dibattito, che poi non è così nuovo. Leggo appunto da Minow Today, l'influencer, la Torre Velasca è brutta e scoppia la polemica. In realtà, credo che io adesso ho visto il video, soprattutto non ho capito perché dicono tour virtuale, quando in realtà poi e dopo c'è nel tour. Cioè adesso fa finta di essere su Google Heart, ma in realtà poi mi sembra che lei sia veramente, realmente nel luogo in cui viene fatta il video. Quindi vabbè, insomma, non capire neanche com'è il video non è male. L'influencer di Singapore ha riacceso online, o almeno nella sua cerchia, il dibattito sulla Torre Velasca. Vi assicuro che quello che vi sto per raccontare è una storia completamente inutile, che prende spazio sui giornali a discapito magari di altre notizie molto più utili. Cosa succede? Questa influencer, credo che appunto faccia così in tutte le città del mondo, dice mi porto a fare un tour a Parigi finché non è brutta. Ok? Quindi fa vedere vari luoghi, dice non è brutto, not ugly, not ugly, not ugly, not ugly, quindi non brutto, non brutto, non brutto, non brutto. Poi a un certo punto dice brutto, basta, e finisce lì. Sarà interessante vedere cosa è brutto anche in altre città, no? Quindi molto bene c'è anche appositamente un certo tipo di scelta in quello che fa vedere. Non fa vedere il Duomo di Milano, ad esempio. Fa vedere però la Galleria Vittorio Emanuele, dice che non è brutta. Fa vedere l'auditorium di Milano, Largo Mahler, e dice che non è brutto. Fa vedere Brera, dice che non è brutto. Fa vedere anche un'altra via che non ho riconosciuto, dice che non è brutta. che in realtà molto probabilmente è più brutta di quella che poi veniva alla fine, che è la Torre Velasca, davanti alla cui dice brutta. E lì finisce il video, perché il video appunto si chiama Milan... Com'è che si dice? Si chiama Milan Exploring Milano Until It's Ugly. Ok? Quindi Exploring Milano Until It's Ugly. Cioè esploriamo Milano finché non è brutta. E appunto arriva sulla Torre Velasca. Apriti cielo, tutti quanti che si sono inalberati, intorrettati in questo caso, mi scopriamo della Torre Velasca. Allora, uno, se c'è qualcosa che si può definire brutto senza dargli colpa e senza soprattutto denigrarlo, è la Torre Velasca, perché fa parte del brutalismo, quindi meglio di così non si può. Io la adoro, la trovo di una bellezza disarmante e nella sua essere brutalista appunto, quindi ci mancherebbe. Seconda cosa, questa campa facendo video su TikTok, quindi adesso noi gente comune mettiamoci anche una mano sul cuore e immaginiamo la vita di questi genitori di Gupta quando lei è andata a casa a dire ciao di Natasha Gupta, ha detto ciao ma, ciao pa, ascolta, no, io ho un lavoro, faccio i video su TikTok esplorando le città finché non sono brutte. Cioè capite che è già dato dei dispiaceri ai propri genitori, non possiamo accanirci così più di tanto, no? Ma soprattutto, ma che ce frega del senso, è brutta, è bella, intanto adesso 3 milioni di persone nel mondo stanno guardando quel video, tra parentesi 3 milioni di persone su TikTok sono praticamente niente, comunque stanno guardando quel video e ci stanno dicendo ma è brutta, non brutta, vado a Milano. Cioè magari semplicemente chi se ne frega, cioè dite anzi, ma facciamo dei video dove andiamo in Piazza San Marco, e diciamo che schifo, poi andiamo davanti al Colosseo, che schifo, davanti al Duomo, che schifo, così la gente dice ma come è che schifo, fammi andare a vedere e poi invece scopre la bellezza italica, no? Ecco, quindi insomma, davvero, cioè le polemiche completamente inutili legate poi a un mondo, quello dei social, quello di TikTok, che la metà di noi, e io mi ci metto dentro, non capiamo, non è roba nostra, togliamoci di mezzo e lasciamolo usare a chi lo capisce quel mezzo, noi togliamoci di mezzo, che è meglio. Damiano David, born with broken heart, nella sua nuova missione, la Harry Style Mission, la chiamo così, perché insomma, sta prendendo un po' quella piega, dai diciamocelo, ma va benissimo, adesso non ci mancherebbe, anzi, Harry Style, come Damiano, lo vedo veramente, veramente messo molto bene, chissà che magari appunto non si farà più poi parlare di operazione Harry Style, ma sarà operazione Damiano David, ad esempio, leggo da Milano Today, un uomo resterà chiuso in casa solo con la I per un esperimento sociale, l'iniziativa vede coinvolto un 44enne di Corsico, Filippo Pinot, che tra le altre cose ha deciso di scrivere anche un libro utilizzando solo l'intelligenza artificiale, come funziona? Isolamento volontario di 8 giorni, una sorta di auto lockdown, ma ancora più stringente, nessuna telefonata, né contatti diretti, o tantomeno visita a domicilio, è l'unica cosa che Filippo Pinot, appunto 44 anni di Corsico, avrà a disposizione, sarà l'intelligenza artificiale e con la I cercherà di lavorare e portare a termine tutte le sue task, una to-do list che deve fare. In cosa consiste questo esperimento? Totale isolamento, ripreso H24 dalle telecamere posizionate nell'appartamento, Filippo vivrà 8 giorni, a partire appunto da oggi, martedì 5 novembre, fissandosi degli obiettivi specifici. Metà della sua vita quotidiana, metà sulla vita quotidiana, quindi personale, come ad esempio imparare una posizione di yoga solo con i suggerimenti di chat CPT, oppure costruire degli oggetti sempre solo con l'aiuto della AI. Poi dovrà fare invece anche degli obiettivi professionali, come ad esempio creare un gioco, dalla grafica fino al regolamento, un altro obiettivo da raggiungere, iniziando subito dal primo giorno, che appunto è già così, è quello di scrivere un libro interamente con l'AI in solo 8 giorni. Esperimento appunto, voglio sperimentare l'uso della AI, dice appunto Filippo, con obiettivi concreti, testando la reale utilità e spunto di crescita, in particolare nel settore che seguo, per capire se è capace, la AI, di innovare la figura del venditore, per esempio, sarà un confronto costante con l'intelligenza artificiale, un collegamento continuo per 8 giorni e 8 notti, con la tecnologia, potrei centrare tutti gli obiettivi al volo, oppure creare progetti clamorosamente inutili, questo è il grande rischio. Vabbè, andremo, oh, tra 8 giorni ci risentiamo, caro il nostro Filippo di Corsico, vedremo che cosa la intelligenza artificiale avrà fatto per questo esperimento, devo dire, esperimento sociale molto molto interessante e anzi, Filippo, poi cercheremo di portarti qui, o magari creeremo un avatar con l'intelligenza artificiale, che ci racconterà che cosa è stato questo esperimento. Vabbè, dai, andiamo con un po' di musica adesso e poi torniamo qui, vedo già il nostro ospite al di là del vetro e quindi andiamo con un po' di musica e poi qua di nuovo, Good Morning Milano, Crystal Radio, in diretta fino alle 9. Megan Trainers con Criminals, alle 8 e 34 minuti, Crystal Radio, vi ricordo sempre gli FM 96.2, poi il Dub Plus in tutta Lombardia e anche l'applicazione per iOS e Android, oltre ovviamente al sito internet, crystalradio.it, dove potete ascoltarci anche lì. Siamo arrivati al momento dell'ospite e sono ben contento di dare il benvenuto in studio alla nostra ospite di questa mattina, Sofia Giacomelli, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, Sofia. Allora, oggi si parla di arte, ragazzi, ragazze, mi raccomando, oggi parliamo di arte con un artista che, anzi, poi andavamo fuori onda, ha appena smontato una mostra qui a Milano e pronta in, già con le valigie, si mettono i quadri in valigia, si mettono, non funziona, pronta per andare a Venezia. Sì, sì, esatto, appena ha concluso la prima mostra personale qua a Milano, nello spazio Chiamami. Ah, sì, via Laghetto. Sì, esatto, la Onlus dietro al Duomo e è stata una mostra patrocinata proprio dal Comune di Milano e organizzata per, in occasione della giornata sulla salute mentale da Milano for Mental Health e intitolata Lampi tra conflitti e consapevolezze e curata da Maracozzoli, vice direttrice dell'associazione Infinity Art con sede legale a Seregno. Ma dimmi un po', ma che cosa abbiamo, cosa ci siamo persi se non siamo venuti o cosa abbiamo potuto vedere se siamo invece venuti lì in via Laghetto? Cioè, quali sono le tue opere e come le realizzi? Sì, si trattava di una piccola esposizione di 22 opere relative al tema dell'identità, della consapevolezza del proprio corpo, della donna, tematiche psicologiche relative anche alla propria consapevolezza, alle proprie inquietudini e pensieri più intimi e interiori. Era un percorso di 22 opere che partivano dai pensieri, dagli aspetti più cupi della nostra esistenza fino ad arrivare a una metamorfosi e a una consapevolezza. Eh, infatti, perché la dipingi più cupa di quello che è, devo dire, io ho qui davanti alcune delle tue opere, no? Detta così, con le parole che mi racconti mi aspettavo cose nere, buie, in realtà no, comunque c'è tanta luce, c'è tanto anche e mi piace molto spazio. Sì, esatto. La mia è una ricerca pittorica in realtà che nasce svincolata da tratti di una formazione accademica, ecco, non ho mai studiato arte, ma sono sempre stata appassionata e nasce in realtà in seguito a un periodo di solitudine e di ricovero. Tuttavia, per me è stata una forma anche terapeutica che mi ha permesso di trovare quella luce interiore, quindi vuole raccontare anche in un certo senso la storia della mia vulnerabilità, ma anche rinnovata ciclicità. Ecco. Sono tanti, anche vedo appunto gli acquarelli, dicevi prima che tu fai tanto questi. Alcuni proprio in bianco e nero sembrano quasi, sembra quasi facile visto così, in realtà immagino che sia un grande lavoro dietro, perché davvero due tratti e viene fuori di me, c'è uno in questo momento di una donna in piedi con tanto di cappello, praticamente ci sono, sembrano due tratti di pennello, ma c'è tutta una storia in quel disegno. Esatto, cerco con poche linee di dare voce alla figura, alla complessità dell'animo, ma con poche linee sempre prevalentemente con bianco e nero, a rappresentare un po' il nostro pensiero dicotomico e quello che è la nostra vita di fatto, però ci sono anche qualche accenno di colore, di magenta, rosso, il colore di vita. Vedo dei tacchi rossi a un certo punto, delle labbra rosse mi sembra di aver visto prima se non sbaglio, delle maschere colorate anche vedo, no? Sì, esatto, quello è ispirato al romanzo di Pirandello, Uno Nessuno Centomila, ma ci sono anche alcuni richiami alla moda, una moda che vuole anche vestire in un certo senso, quindi sempre volti femminili, eleganti. Come mai questo binomio con la moda è una cosa, insomma, vedo anche se è molto elegante oggi, quindi voglio capire se è una passione, una necessità o una volontà. È una passione, sono affascinata dall'eleganza, dalle linee morbide, seduttive e del motivo per cui prevalentemente dipingo sempre volti di donna o corpi femminili, ma sempre dai tratti consapevoli, eleganti, forti, vitali. Eleganza hai detto, non è elegante infatti questa domanda, ma quanti anni hai? 22. Ecco appunto, allora, 22 anni, un'eleganza però che vorrebbe dire da altri tempi, ma forse non è così a questo punto, perché insomma, noi pensiamo che siate mosche bianche, così, ma forse non è così a questo punto, cioè, non sono tutti Maranza i 22 anni della Gen Z, non è solo Maranza, no? E saluto in regia e sanno con cui sto parlando, ma nel senso, no? grazie, grazie. Quindi non sei solo tu, c'è un movimento di eleganza anche tra la Gen Z? Sì, secondo me sì, 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 sì. Quindi abbiamo qualche speranza di salvarci. Perfetto, bene. Ciao Ginevra, tutto bene in regia? Comunque, allora adesso andiamo con un po' di musica, poi torniamo qui ancora a parlare dell'arte di Silvio Giacomelli e soprattutto adesso mi racconti come hai preparato proprio tutto bene, adesso che parli di eleganza voglio sapere c'è una valigia che porta a Venezia oltre ai quadri appunto che porterà a Venezia e che cosa potremo vedere a Venezia. Andiamo con Rihanna Don't Stop The Music e poi torniamo qui con Sofia Giacomelli in diretta qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Mamma say mamma sa ma accusà 8 e 43 minuti Rihanna Don't Stop The Music mi ricordo sempre però che quello è un campione preso da Michael Jackson mi raccomando diamo a Michael ciò che di Michael come diamo a Sofia ciò che di Sofia siamo qui a parlare con Sofia Giacomelli buongiorno ancora Sofia buongiorno artista, pittrice acquarellista non so se esiste acquarellista si può dire si può dire ok appunto in procinto per partire per Venezia dopo ci racconti bene appunto cosa andrei a fare a Venezia ma mi interessa questa cosa del fatto che insomma tu hai iniziato a esprimere la tua arte quasi per necessità a un certo punto no giusto? esatto esatto sono sempre stata appassionata di arte così ma l'evento che sicuramente ha un po' svoltato l'evento scatenante in Criminal Minds dicono così quando poi qual è l'evento scatenante? esatto è stato un periodo in realtà di lungo ricovero e di solitudine in una clinica per disturbi alimentari ormai 5 anni fa un periodo che a posteriori ora penso sia stato veramente fondamentale per quella che è stata la mia esistenza la ricerca della mia identità ma anche di quello che è stata la scoperta di un lato di me che non conoscevo così a fondo ed è stato proprio in quel momento che avendo tanto tempo a disposizione essendo in isolamento ho riflettuto molto e ho iniziato a dipingere in maniera anche molto così terapeutica a tirare fuori quello che sentivo e che percepivo e sicuramente questo si rispecchia in quelle che sono poi i miei equarelli i miei carboncini e si riflette in donne così in volti femminili sempre vitali ecco se diciamo quel fatto scatenante ha aiutato a far uscire la parte artistica che moltamente era già lì dentro appunto aveva solo bisogno di trovare una valvola di uscita quando poi è arrivata la tua espressione artistica ti ha aiutato anche nell'altra parte invece? sì parecchio parecchio mi ha aiutato molto a acquisire una certa consapevolezza conoscenza di me stessa devo dire che tirando fuori dando voce ai miei pensieri più intimi alle mie inquietudini sono riuscita come quando si scrive e si dà voce ai propri pensieri a mettere nero su bianco in tutti i sensi con acquarelli in questo caso con acquarelli e carboncini quello che sentivo e ad aiutarmi ad acquisire una consapevolezza e mi rispecchiavo nelle stesse donne dagli sguardi intensi forti consapevoli di se stesse più di quanto magari non ero io in quel momento insomma una versione un'arte che diventa quasi terapeutica per se stesso ma non solo terapeutica cioè proprio espressiva salvifica mi verrebbe da dire esatto salvifica e questa è anche la mia speranza possa essere uno spunto per chi si trova magari in momenti di difficoltà che possa risvegliare magari in questi momenti quella parte di artista che è insita in sé perché tutti noi nasciamo artisti everyone is an artist diceva qualcuno diceva anni fa un certo world so che questa cosa tu ne parli senza problemi appunto e anzi grazie per aver condiviso con noi anche con un momento che insomma sicuramente non era stato semplice e che poi l'ho diventato grazie forse lo semplice magari non è mai stato ma diciamo è diventato digeribile rimanendo in tema alimentare grazie appunto alla tua arte ti capita mai di avere incontri magari con qualcuno che appunto ti dice guarda anch'io vivo quella situazione anch'io sto e magari appunto ispirato all'arte può migliorare sì mi è capitato di incontrare alcune persone con lo stesso problema e ho sempre cercato ecco di raccontare quella che è stata il mio percorso e la speranza di portare in loro quella luce che io stesso ho ritrovato e che poi ho portato ad amare incondizionamente non solo se stessi ma in generale la vita ecco ma senti adesso invece dici un po' cosa vai a fare a Venezia sono curioso di sapere cosa vai a fare a Venezia e quando sì allora sono in procinta di partire sono stata contattata da un gruppo di curatori di Genova di Vulgarti Art Group che ha selezionato una delle mie opere per una mostra collettiva presso Palazzo Pisani Revedini in piazza San Marco e si tratta di un appunto mostra collettiva intitolata tra acqua e cultura e società e esporò lì dal 16 novembre fino al 30 novembre sarà visitabile ecco tutti i giorni dove possiamo trovare mai qualche informazione appunto su come fare a seguire la tua arte dove possiamo seguirti appunto sì trovate tutto sulla mia pagina Instagram Soffi d'Arte Soffi d'Arte bello bel nome gioco di parole interessante con il mio stesso diminutivo Sofia ma anche richiamo alla leggerezza ecco Soffi d'Arte con l'underscore del totino basso finale e lì troverete tutti i miei aggiornamenti anche una community su Whatsapp per rimanere aggiornati sulle mie prossime mostre ed esibizioni Nella bio di Instagram tu dici la mia arte poi dici la linea intorno ai miei pensieri sì esatto esatto penso che sia esemplifichi penso che esemplifichi bene quello che è la mia arte i miei disegni linee sottili semplici molto minimal ma che cerchino di racchiudere e di rappresentare una complessità diciamo più insita in tutto con una linea pensa non è semplice descrivere la complessità con una linea non è per niente semplice fatevi un giro su Instagram Soffi d'Arte tutto attaccato con il trattino basso è appunto il profilo di Sofia Giacomelli dove potete trovare tutte le sue opere e anche seguire appunto dove andrà e che cosa farà nelle prossimi mesi sai già se avrai altre mostre più avanti ho un progetto in corso presso la fondazione di Alda Merini probabilmente per il 2025 anche per le gallerie civiche di Monza Seregno e Lucca sempre si tratterà di mostre personali vorrei portare Lampi questo progetto ecco tra conflitti e consapevolezze che è stato che è iniziato con qui a Milano nello spazio Chiamami e portarla prossimamente in altre gallerie e fondazioni molto molto interessante Sofia io ti ringrazio allora di essere qui con noi questa mattina grazie a voi è stato un piacere facci sapere come va a Venezia ma soprattutto ti aggiornate sulle prossime tue presenze magari anche qui in città grazie mille e buona giornata a tutti grazie mille davvero a Sofia Giacomelli io lo dico sempre ragazzi speriamo che questi ospiti che noi abbiamo qui vi ispirino anche magari a tirare fuori la parte migliore di voi insomma Sofia l'ha fatto in un momento anche in punto difficile e voi magari lo potete fare per superare i momenti difficili oppure perché insomma lo sentite avete quella cosa dentro che vorreste far uscire ma non capite che cos'è e magari proprio quello è la bisogno la necessità di esprimere il proprio io più profondo e noi siamo qua per darvi magari qualche ispirazione o qualche spintarella se non proprio una pesata del cui come si dice a Milano per cercare di darvi una mano a uscire dal guscio che è questo fondamentale grazie ancora mille a Sofia Giacomelli buona giornata Sofia noi adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui con la sigla finale 8 e 55 minuti di oggi martedì 5 novembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e lo sapete benissimo che dopo di noi c'è Ambrogio Curti ormai è il nostro vicino di casa e siamo ben contenti ma sapete quando si dice ah non conosco neanche quelli che avviene sul mio penerotto noi li conosciamo benissimo e uno di questi è Ambrogio Curti siamo ben contenti perché è quello che quando ti serve lo zucchero e gli vai a bussare qualsiasi giorno e notte e dice no ci mancherebbe tieni qua un po' di zucchero c'è sempre quindi oggi ci racconterà come sempre un po' di buona o bella musica le storie gli aneddoti tutto quello che c'è e ruota intorno alla grande musica alle 9.05 dopo il giornale radio Ambrogio Curti con Senti Questa e se vi è piaciuto l'intervento di Sofia Giacomelli oppure gli interventi che avete ascoltato o che vi siete persi durante la settimana bene c'è sempre il nostro sito internet goodmorning.milano.it lì c'è tutto quello che volete c'è il focus periferie c'è il 20 settimane con Andrei c'è Tamara Malleo il giovedì con il teatro insomma tutte le interviste tutti gli ospiti ben tagliuzzate un bel taglio ai cuci messe lì pronte per essere gustate tutti i giorni sul nostro sito goodmorning.milano.it le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Sofia Giacomelli e Fabio Ranfi qui al microfono per voi in regia Ginevra e la redazione anche se oggi non è qui ma è con noi sempre Beatrice grazie mille di averci seguito noi ci sentiamo domani alle 7 qui su Crystal Radio goodmorning.milano ciao a tutti buona giornata grazie a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.